Francesco Maragno, primo cittadino di Montesilvano, ci fa una panoramica sul fenomeno della prostituzione qui a Montesilvano. Quali sono le iniziative che sono state intraprese per ostacolare questo fenomeno e quali sono i progetti futuri? Abbiamo portato avanti un'iniziativa senza sosta da quando mi sono insediato nel 2014, già con delle ordinanze antiprostituzioni per sanzionare sia i clienti che le prostitute, oltre ovviamente ad implementare i controlli con le forze di polizia e il nostro comando di polizia municipale. Inoltre abbiamo stretto un protocollo di intesa con l'associazione Papa Giovanni XXIII per il recupero delle ragazze dalla strada e questa iniziativa ci ha portato notevole beneficio perché parecchie ragazze sono state recuperate e avviate a una vita dignitosa. Inoltre, ma non da ultimo, abbiamo siglato un accordo con gli amministratori di condominio per segnalare e individuare il meritricio all'interno degli appartamenti perché anche questa è una piaga che condiziona poi tantissimi cittadini. Non ci fermiamo qua perché oggi presentiamo un progetto antiprostituzione completo, vasto, dettagliato che probabilmente rappresenterà un unicum nel panorama nazionale cercando di condizionare in negativo la presenza delle prostitute sul territorio. La comunità Papa Giovanni XXIII da anni accoglie le ragazze vittime di tratta, quindi quello di cui ci occupiamo e accoglie persone che hanno un disagio generico, quindi mamme con bambine, persone sole, persone in difficoltà, persone senza fissa dimora e abbiamo in tutta Italia, quell'associazione ha delle case che sono case famiglia, capanne di betlemme, case di preghiera, strutture di accoglienza per cui lo specifico è proprio la condivisione diretta con queste persone che hanno questi disagi. Quindi spesso ci sono famiglie, quindi una mamma e un papà con dei figli loro naturali che si aprono all'accoglienza e quindi accolgono queste persone nelle loro case e tra queste persone spesso accolgono le ragazze vittime di tratta che sono quelle che noi incontriamo tutti i venerdì sera.